Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati in un nuovo video. Oggi vorrei parlare insieme a voi di quella che sarà la sfida che la Juventus dovrà sostenere nel pomeriggio e quindi una trasferta contro lo Sassuolo che sulla carta sembra una partita facile facile, soltanto di routine e invece può nascondere diversi pericoli, diversi problemi. In primis voglio partire un attimo dagli altri, per una volta voglio guardare in casa dagli altri e cioè le tre squadre italiane che hanno già giocato e che nella prossima settimana avranno un impegno europeo. Stiamo parlando di Milan, Inter e Napoli. Napoli e Milan si incontreranno, si sfideranno. In Paio c'è la semifinale di Champions, quindi una partita molto molto importante per entrambe. Una per fare la storia del Napoli e l'altra per respirare nuovamente un po' l'aria di storia, il Milan. Partita molto, secondo me, ancora aperta, equilibrata. Ho visto anche la partita d'andata, è stata siccome molto divertente. Ieri è stata una sfida tra Milan e Bologna e tra Napoli e Las Verona all'insegna del pensiamo più alla Champions. E se da una parte il Napoli lo può fare, perché comunque il vantaggio che ha accumulato in Serie A è quasi imbarazzante, il Milan e l'Inter invece dovrebbero fare un pochino più attenzione per quanto riguarda appunto la classifica. Hanno pareggiato entrambi, il Milan probabilmente potrebbe star qui a reclamare qualcosina in più, visto qualche disattenzione arbitrale che c'è stata all'interno della partita. Il Napoli invece pareggia a reti bianche, entrambe le squadre all'insegna del turnover, il Milan molto più spregiudicato da questo punto di vista. È il Napoli che ritrova Ossiman, magari non dal primo minuto, però lo ritrova. L'Inter invece perde addirittura, perde una partita a San Siro contro il Monza, in vista di un ritorno che sarà più agevole per l'Inter perché c'è un vantaggio un po' più grande, ma non deve abbassare comunque l'attenzione. Io sono stato molto stupito di vedere l'Inter vincere per 2-0 col Benfica, vedremo cosa accadrà al ritorno. Ma perché ho parlato un po' delle altre squadre? Non perché sia qui a voler fare una panoramica anche su di loro, quanto più per farvi capire che in mezzo, ok, la settimana che accompagna una competizione europea andata e ritorno, in mezzo c'è la partita, i risultati anche se sembrano clamorosamente scontati non lo sono. E infatti il Napoli che pareggia con l'Ellas, il Milan che pareggia col Bologna, l'Inter che perde col Monza. Quindi la trasferta di Sassuolo, che sulla carta è una banalità, per la Juventus rischia di diventare una sorta di trappola. Voglio guardare però in casa nostra stavolta, dato che vi ho parlato degli altri, e sono andato a pescare le partite all'interno del filotto europeo, quindi partite europee, partite di campionato, partite europee. In questa stagione giochiamo a Parigi contro il PSG e tra quella e la partita in casa col Benfica c'è la Salernitana. Partita strana nella quale la Juve si ritrova in svantaggio per 2-0 a fine del primo tempo, partita che poi la Juventus va a recuperare e la va a recuperare completamente, va a rimontarla con una vittoria che non viene insegnata per ragioni che tutti quanti noi conosciamo. Ma partita strana, partita particolare, dove la Juve non aveva approcciato per niente bene. Maccabi in casa, Maccabi in trasferta, in mezzo sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Milan. Partita che la Juventus sicuramente non gioca per niente. Era un'altra Juve? Certo, lo era. Era un'altra testa, era un altro approccio, forse anche un altro gruppo e secondo me questa penalizzazione ha aiutato molto il gruppo a cementificarsi. Però stiamo vedendo che già due partite, in mezzo all'interno di una competizione europea, sono state molto difficili, molto combattute e fino adesso mai vinte dalla Juventus. Benfica là in trasferta, PSG in casa da già eliminati, in mezzo alla vittoria contro il Lecce al Via del Mare, firmata da Niccolò Fagioli, una vittoria molto, molto complicata. La Juventus ottiene semplicemente per via di quello spunto, di quel bello spunto da parte di Fagioli, quella prodessa tecnica che ha ricordato molto Alessandro Dal Piero. Quindi altra partita complicata. Nantes andata e ritorno in mezzo lo Spezia. La Juventus in trasferta contro lo Spezia vince per 2-0, ma è costretta ad inserire Di Maria per chiudere la partita con Di Maria che poi segnerà, chiuderà la pratica, ma una Juventus che va in vantaggio per 1-0 e poi comunque soffre molto lo Spezia. Ha bisogno di, tra virgolette, usare i trucchi, quindi usare uno dei calciatori con più abilità, uno dei calciatori più in foro, uno dei calciatori più forti della Rosa da Juve. Altra partita molto difficile, molto complicata, questa volta vinta dalla Juventus. Friburgo andata e ritorno in mezzo, anzi Juventus e Sampdoria 4-2. Partita, anche questa, strana, bizzarra, non una partita normale, una partita piena zeppa di episodi. Partita nella quale la Juventus va in vantaggio per 2-0, poi blackout, si stacca la spina, si pensa magari già alla partita successiva, all'infrasettimanale, alla partita di ritorno col Friburgo, la trasferta tedesca, e non va bene. Poi la Juventus riuscirà a trovare il gol del 3-2, del 4-2, quindi chiudere la partita e portare a casa la partita, una partita in cui comunque si è sofferto. Non stiamo parlando del sassuono dell'andata, e soprattutto la Juventus deve pensare che deve fare questa partita prima di quell'altra. Ieri parlavamo di turnover, no? In realtà, secondo Giovanni Albanese, questa sarà la Juventus che scenderà in campo oggi a Reggio Emilia, con Perini in porta, lo sapevamo, era l'unico giocatore che Allegri ieri ci aveva confermato in conferenza stampa, perché Scesni alla fine partirà per Reggio Emilia, ma non giocherà. Non ci sarà rotazione, a quanto pare, in difesa. Io mi immaginavo uno tra Bonucci e Lugani al posto di Bremer, ieri Allegri vi ha detto che aveva un po' di mal di gole, quindi probabilmente avrebbe riposato, e invece no, e invece no. A quanto pare, questa dovrebbe essere la difesa confermata oggi, quindi la difesa titolare, alla faccia del turnover. Paredes, che è l'unico cambio a centrocampo al posto di Locatelli, che tra l'altro è strano perché Locatelli a Reggio Emilia, secondo me, avrebbe voluto giocare, e poi Fagioli e Rabiot, due titolari. Quindi fino adesso di cambio, a parte il portiere, c'è solo Paredes. Costi c'è a sinistra, titolare, e a destra Barbieri, che potrebbe partire per la prima volta, dal primo minuto, l'esordio stagionale con la Juventus in Serie A, per far rivetare Quadrado, non c'è De Sciglio, e l'unica possibilità è stato convocato, vedremo se sarà così, però fino adesso di turnover ce n'è uno e mezzo, e davanti Vlaovic e Milik. Davanti non sono ben chiari i titolari, perché girano molto a seconda del momento, a seconda della condizione fisica, non ci sarà Moise Ken, che sarebbe stato in realtà molto importante oggi per un discorso di rotazioni, però Vlaovic e Milik sono, se non due titolari, un titolare e mezzo. Quindi tutto questo turnover alla fine, a parte il portiere, e a parte Barbieri, e a parte Paredes, non c'è. Quindi la Juventus, se questa sarà la formazione, andrà a confermare l'idea di volersela giocare, per portarsela a casa già oggi. Poi ci va una riflessione, e questa è una riflessione che può fare soltanto un tifoso della Juventus, perché per cosa giochiamo oggi? Perché da una parte, io vi dico, hanno rallentato davanti le due milanesi, vedremo le romane che cosa faranno, ma è una volontà, una possibilità di avvicinarci, anche col menù 15, a quella posizione lì, e quindi iniziare a sognare, eventualmente, una qualificazione in Champions, anche con la penalizzazione di 15 punti. Poi, tra tre giorni, finalmente, questa roba ce la toglieremo di dosso, perché francamente, ha rovinato un campionato, all'inizio mi aveva rovinato completamente la voglia di seguire questa stagione sportiva, adesso, per fortuna la Juventus è riuscita a ridarmi un po' di quell'energia che serve al tifoso per appassionarsi, oggi andrò allo stadio, quindi sarà ancora più bello vivere l'esperienza, però tra tre giorni, almeno, questa roba ce la leviamo, e ci facciamo poi il sanguamare, eventualmente, sulle prossime sentenze, se ci saranno quelle stipendi, però, questa del plus valenze, ce la togliamo, sappiamo di che morte morire, ci ridanno i 15 punti, siamo in una condizione un po' più tranquilla, vista della prossima Champions League, ci confermano i 15 punti, allora bisogna ricominciare a correre in queste ultime, poi, otto partite di campionato, e cercare di fare più punti possibili sui 24 disponibili, questo è un po' quello che, secondo me, la Juventus, in questo momento, deve fare, e deve cercare di vivere, ieri, infatti, Allegri parlava un po' anche di obiettivi, di come sta preparando la squadra a questa data, che poi arriverà, voglio anche un attimino fare un resoconto di quello che è il Sassuolo, perché da loro Berardi è il giocatore più pericoloso, ma oggi sarà assente, l'ha confermato anche ieri Dionisi in conferenza stampa, davanti hanno Pinamonti, che ha segnato soltanto 5 gol, quindi sicuramente un attaccante che è in difficoltà dal punto di vista realizzativo, vediamo di non svoltargli la stagione proprio oggi, lasciamolo in crisi con i suoi 5 gol, poi, dalla prossima, se è bravo, può venire fuori, cerchiamo di non regalargli il sesto. Occhio poi a Laurentier, un giocatore molto importante, interessante, che si sta mettendo in mostra in questa stagione, chiedete alla Roma all'Olimpico per conferma, una delle ultime partite che il Sassuolo ha vinto, tra l'altro una vittoria clamorosa, ecco, il Sassuolo ha già vinto contro tutte le big, tra l'anno scorso e quest'anno, l'anno scorso il Sassuolo ci ha battuto, quindi iniziamo a entrare nella condizione che sì, è una squadra che, ma è anche una squadra che dà fastidio, è una squadra che dà fastidio, e a centrocampo Frattesi e Maximo Lopez sono due giocatori che in mediana hanno qualità e quantità e soprattutto inserimento per la parte di Frattesi, giocatore che in questo momento può veramente far male alla Juventus, tra l'altro sentivo Romeo Agresti che diceva che Frattesi è uno dei giocatori sul taccuino della Juventus per la prossima stagione, ipotizzo in caso di non rinnovo di Adier Rabiot, che oggi invece dovrà giocare contro il numero 16 del Sassuolo, è la squadra che para meno in Serie A, sono meglio del Napoli e della Roma da questo punto di vista, sono anche la squadra che corre meno in Serie A, questo non significa che siano fenomenali in difesa o scarsi atleticamente, significa però che è la squadra che para meno in Serie A e la squadra che corre meno in Serie A, puoi anche correre poco se il pallone ce l'hai tu, quindi cerchiamo di partire da questo presupposto qui, e la squadra che para meno in Serie A, magari perché tutte le volte tirano troppo bene il portiere e non può arrivarci o magari perché sono bravi a far tirare gli avversari da posizioni scomode e quindi non c'è bisogno di parare. Seconda miglior squadra insieme al Napoli per rigori a favore, ben 6, anzi ben 7 e ben 6 gol dalla panchina, quindi questi sono segnali che devono essere delle sorte di campanelli d'allarme per la Juventus. Loro tirano in porta quasi come la Juventus in generale, sono poi meno precisi nella realizzazione perché hanno segnato 10 gol di meno, è ovvio che da questo punto di vista poi entra in gioco anche il discorso della qualità dei giocatori perché Juventus e Sassuolo hanno due rose che non possono essere messe sullo stesso piano, ma per quello che riguarda la costruzione negli ultimi metri e la finalizzazione loro tirano in porta tanto quanto la Juve e in stagione hanno segnato soltanto 10 gol di meno in Serie A. Quindi questi sono dati che devono farci rimanere abbastanza concentrati. In casa e fuori casa hanno bene o male lo stesso rendimento dal punto di vista dei gol segnati, hanno segnato lo stesso numero di gol, in casa subiscono meno reti e se lo aggiungiamo al fatto che sono anche la squadra che para di meno in Serie A anche questo deve essere una sorta di campanello d'allarme e qualcosa che deve farci rimanere concentrati. come con la Lazio voglio visualizzare insieme a voi i momenti in cui il Sassuolo si scatena e i momenti in cui il Sassuolo concede un po' di più perché a differenza della Lazio abbiamo visto partire molto forte nei primi 15 minuti di tutti e due i tempi il Sassuolo nei primi 15 minuti è segnato soltanto 4 reti 6 nella frazione intermedia del primo tempo e ben 10 negli ultimi 15 minuti di primo tempo. Significa che sono un diesel partono piano iniziano ad aumentare e poi negli ultimi 15 minuti di primo tempo lì è il momento in cui loro cercano di fare male bisogna stare attenti in questo quarto d'orario inizia il secondo tempo con 6 gol subiti 5 gol quindi sono abbastanza uniformi da questo punto di vista e nel secondo tempo non hanno dei grossi exploat quindi se dobbiamo rimanere concentrati dal punto di vista difensivo perché il Sassuolo tende ad aumentare il giro del motore l'ultimo quarto d'ora del primo tempo per il resto sono una squadra abbastanza uniformata per quanto riguarda invece il momento in cui accelerare noi e quindi spingere sull'acceleratore perché iniziano a molare qualcosina non tanto nei primi 15 minuti hanno subito soltanto 4 gol ma già nel minuto dal 15esimo al 30esimo ne hanno subiti 9 così come ne hanno subiti 7 dal 30esimo al 45esimo avete già visto che dal 45esimo al 60esimo ne hanno subiti 6 ne hanno subiti soltanto 5 dal 60esimo al 75esimo e poi invece l'ultimo quarto d'orario è il momento peggiore in assoluto per il Sassuolo incredibile negli ultimi 15 minuti di gara hanno subito ben 12 reti quindi se vogliamo essere abbastanza precisi da questo punto di vista dal 15esimo al 30esimo nel primo tempo comunque qualcosa iniziano a concedere probabilmente perché iniziano a sganciarsi un pochettino senza aver trovato ancora la distanza giusta per garantire un equilibrio tra attacco e difesa ma se vogliamo veramente fargli male bisogna andare a spingere negli ultimi 15 minuti significa che anche i cambi i vari Di Maria e Chiesa che non abbiamo visto in formazione dal primo minuto possano diventare importanti lo stesso quadrato qualora dovesse entrare Pogba dato che Allegri ha parlato di un giocatore che comunque 10-15-20 magari 30 minuti li può avere da qui a fine stagione ora oggi non credo che Pogba possa avere 30 minuti a disposizione però 15-20 potrebbe averli ecco il momento in cui il Sassuolo soffre di più ed è il momento in cui bisognerà iniziare a spingere particolarmente qualora il risultato fosse ancora in bilico o la Juventus dovesse recuperare dei gol quindi mettiamoci nell'idea che questa cosa può accadere quindi non sottovalutiamo il Sassuolo perché abbiamo visto che sono una squadra che il risultato lo fanno anche contro le squadre di maggior sentimento popolare le squadre più tifate le squadre più blasonate le squadre comunque più forti sono una squadra che non corre troppo perché sono magari abili a far girare il pallone ripeto loro a centrocampo hanno due giocatori molto molto forti e che stanno facendo la differenza in Serie A manca il vero e proprio trascinatore il numero 10 quello che fino all'anno scorso anzi all'inizio di quest'anno tra l'altro vestiva pure la fascia giocatore che ha giocato insieme all'Italia un campione d'Europa che era partito titolare poi ha perso il posto di fronte a un Federico Chiesa eccezionale straripante non sono eccezionali sull'attaccante che in questa stagione sta trovando non poche difficoltà nonostante sia stato invece un investimento di un certo tipo Lauriente giocatore che potrebbe farci impazzire la difesa abbiamo visto che all'interno di questa competizione delle diverse competizioni europee poi la partita in Serie A facciamo un po' fatica succedono delle cose ma abbiamo visto anche che loro nei 15 minuti finali soffrono terribilmente e quindi lì sarà il momento di iniziare qualora se ne fosse la necessità a spingere ancora di più non sottovalutiamo il Sassuolo noi ci vediamo questa sera con il post partita direttamente dal Mappai Stadium